Ci siamo, tutto pronto, partiti i cavalli della Maiden sulla distanza del Miglio. Buona la partenza subito di Amaranto che si trascina al suo esterno il favorito Spygate che prende subito il comando. In terza si sistema invece Galpo, in quarta il debuttante Chainsbreaker, a precedere l'altra Juba, Blue e Fucsia, che è quella di Grand Shangle, al cui esterno gravita Field Over the Sea. Dietro a questi troviamo anche Lomita's Gold, Bridge Dragonfire, Full Time, il debuttante Tanking e Nottingham a completare il quadro. Andatura di comodo, imbastita in avanti da Spygate che dopo che ha preso la testa si è messo lì a tergiversare Galpo che non lo perde di vista, Field Over the Sea che invece galoppa in terza corsia, in quarta posizione all'interno invece c'è Amaranto. A precedere Grand Shangle, poi Chainbreaker, il debuttante che è davanti a Bridge Dragonfire, poi ancora Tanking, Full Time, Lomita's Gold, mentre il gruppo è completato anche da Diabolico Cupe preceduto da Nottingham. Siamo alle intersezioni delle piste, Galpo che prova a dare il primo attacco a Spygate, il quale tuttavia è ancora davanti. Grand Shangle che ci prova, si avvicina in maniera piuttosto minacciosa il debuttante della Loxot, Tanking che a 450 dal palo si getta agli inseguimento dei primi due, tre cavalli che si staccano in lotta ma non è finita con Spygate che ha respinto il primo attacco, Tanking che si avvicina, Galpo che è ancora lì, tre cavalli su di una linea, a 300 dal traguardo con Spygate ancora davanti, attaccato all'esterno a Tanking che tende a passare in vantaggio. Tanking in questo momento è davanti, prova Spygate a tornare, Galpo che è ancora in quota ma Tanking! Debutta con questo stile dal circolone rosso nei confronti di Galpo e il favorito Spygate, vince subito alla prima uscita, del resto le linee erano buone. In scuderia per Tanking un French Navy è Tofa, di proprietà della signora Isabelle Askel De Tomaso, il training è quello di Endobotti e Cristiana Brivio. In sella c'era Claudio Colombi, 13 al primo posto, al secondo Spygate sub Galpo, 13, 12, 7, questo è l'ordine d'arrivo ufficioso, numerico, probabile, della seconda corsa da Capannelle. Buona l'impressione di Tanking che è riuscito a risalire dalle retrovie, pochi tempi di galoppo, si è portato subito vicino ai primi e poi ha fissato lì Spygate e Galpo. Bella impressione al debutto per Tanking da Capannelle. Per la seconda è tutto. Grazie a tutti.